Stiamo per fare un caso di una carotide destra con un accesso dall'arteria radiale destra. Viene utilizzato, come vedete, un accesso da micropuntura. Noi abbiamo appunto l'arteria radiale di destra e adesso facciamo 5.000 unità di eparina in arteria e nitrati abbiamo preparato, 0,25 microgrammi. Adesso si porta avanti la guida a Terumo e poi si porta l'introduttore da 8, il catetere di introduttore guida della Cordis. Rimuoviamo l'introduttore da microaccesso e montiamo l'introduttore, mettiamo la sacca in pressione, mettiamo il catetere che ci aiuta ad ingaggiare la... Io farei così. Vai, 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 vai. Ok, ottimo. Questa qua, grazie. Ottimo. Abbiamo messo uno smart mask per cercare di ingaggiare al meglio la... Sì, vediamo. Va bene. Tieni la guida. Tu pensa che se fossi passato per via transfemorale entrava dritto anche se non... Abbiamo già finito. Poi vorrò farlo rigirare, riproviamoci un attimo. Avete visto l'astenosi? Se avessimo fatto l'approccio dal basso saremmo andati dritto per dritto e così è stato. Non abbiamo dovuto neanche dare più di tanta curva alla guida. Quindi siamo andati in questa direzione, abbiamo messo un filtro epi-filter. Dopo l'epi abbiamo posizionato un carotid wall stand 730, senza predilatare. Ci siamo fidati molto della forza radiale dello stand. E come vedete si è aperto bene a clessidra. Dopodiché abbiamo post-dilatato con un pallone soft, ultra soft 520, un monorail. Qui vedete la dilatazione. Questo è il controllo finale. Abbiamo fatto poi anche il controllo intracranico. Quindi, come ha detto lei prima professore, non dobbiamo incaponirci sulle cose che abbiamo pensato, ma dobbiamo essere pronti a cambiare strada e a scegliere un'azione diversa che poi può essere quella che rende tutto più semplice. Complimenti, bello. Il caso è didatticamente direi stupendo. Non solo è stupendo perché ha dimostrato il vostro quotiente intellettivo. Fammi fare una battuta. Che a fianco a un grande uomo lì c'è una grande donna. Sì, sì, infatti. Grazie professore. Buongiorno, grazie professore. Grazie, bravi. Grazie, grazie a tutti. Grazie alla nostra equipe. A dopo.